Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che, dopo la pausa natalizia, è pronto a riprendere con una puntata decisamente ricca di argomenti. ISMF, Ski Montaneering World Cup, si torna a gareggiare, si torna a gareggiare in Andorra dove sono attesi tutti gli atleti della nazionale italiana e i galatticos dello sci alpinismo. Tutte le feste di Natale è ora di riattaccare il pettorale per la seconda tappa di Coppa del Mondo di ISMF che si svolgerà in Andorra questo sabato e questa domenica con una gara individuale, una gara vertical. Diciamo che dopo la prima tappa di Coppa del Mondo a Ponti di Legno tonale sono fiducioso di fare una bella gara. Sicuramente al tonale non sono uscito ad esprimermi al meglio, la testa era un po' altrove, non ero proprio concentrato al 100% ma la gamba girava comunque. Il lavoro sulle feste di Natalizia è stato proficuo e spero proprio di essere in piena forma per Andorra. Andorra è soprattutto una gara che mi porta sempre bene, ho conseguito già parecchi pochi su quella pista e speriamo proprio che la neve mi dè quelle soddisfazioni che ho accumulato negli anni in quel posto. Facciamo un passo indietro guardando i risultati dello scorso fine settimana. Ai 2500 metri di ghiacciaio Presena, sulle montagne di confine tra Trentino e Lombardia, sono andati in scena i campionati italiani giovanili di sci alpinismo. Nella categoria Under 23 si aggiudicano il tricolore Katia Mascherona e Matteo Sostizzo. Sono partita sempre dietro in seguire le mie compagne e poi pian pianino riuscivo ad avvicinarmi finché sul finale ce l'abbiamo fatta. Molto combattuta, infatti ho fatto tutta la gara da terza e poi sul finale è andata bene, dai. Ce l'abbiamo fatta, chiuso vincendo e fine, sono contenta. C'era aria, poi siamo in quota, quindi il freddo si fa sentire, però dai, per quanto riguarda la gara l'ho gestita, sono partito l'ho fatta abbastanza in solitaria e dai l'ho gestita bene in tutto. Il freddo si è fatto sentire, soprattutto alle mani. Ciaspolada, quarto sigillo per Cesare Maestri. In questo sport non è mai troppo scontato fare il risultato, però ci tenevo tanto, era due anni che mancavo, cioè un anno è mancata un po' per tutti, diciamo, quindi è stato bellissimo tornare a questo evento, bello anche la nuova location, io mi sono divertito alla grande, sono ancora più contento per il risultato, era anche campionato europeo, quindi una cosa in più, dopo il mondiale, quindi alla grande, meglio di così, non poteva andare. Monterosa Ski, il primo comprensorio sciistico ad aver aperto le porte agli sci alpinisti, è pronto a rilanciare con un progetto supportato da Dinafit e con l'edizione 2022 della gara sci alpinistica in notturna, in programma il 4 di marzo. Anche per questa stagione 2021-2022 Monterosa offre agli appassionati di sci alpinismo tre percorsi per la risalita con le pelli di foca. Sono percorsi battuti, segnalati, sono al di fuori delle piste di discesa e sono messi in sicurezza anche dal pericolo valanghi, in maniera che sia il neofita che l'esperto possono affrontarli, l'uno per divertirsi, l'altro per allenarsi. I percorsi sono tre, il primo è Colle Betta, 550 metri in Valle di Gressonei, il secondo è Colle Betta Forca, 750 metri in Valle di Aglias e il terzo è di nuovo in Valle di Gressonei, 650 metri di dislivello, lato Gabiet, passo dei salati. Con un biglietto si possono prendere gli impianti di risalita per arrivare alla partenza degli itinerari, percorrere poi gli itinerari e scendere lungo le piste di discesa in tutta sicurezza. Dalla stagione 21-22 il nostro partner per i percorsi di scialpinismo è Dinafit, con loro abbiamo progettato delle importanti novità, la più importante è il fatto che sarà una serata dedicata in notturna per la risalita e la discesa di notte sui percorsi di risalita, inoltre sempre con Dinafit si è progettato un concorso a premi per i possessori di bigliato stagionale. Per rimanere aggiornati sui percorsi e sulle novità, che quest'anno saranno parecchie, visitate il sito www.visitmonterosa.com Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio non cambia, al termine dell'ultima salita veloce i cambi e giù a bomba in discesa! Grazie! Grazie!